Avete domande sulla pittura d'olio? Questo è il vostro momento. Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. E attraverso questo video voglio utilizzare lo specchietto della sezione in commenti per raccogliere tutte le domande, dalle più semplici, anche se voi reputate banali o vi vergognate, lasciatele perché qui nessuno nasce imparato. Alle più complicate, cercherò di rispondere, naturalmente se nelle mie competenze. Al fine poi di pubblicare un video dove rispondo a tutte le domande, magari andrò a riprendere anche domande più importanti che mi sono state fatte in passato e quindi fare un video di risposta a tutte le domande sulla pittura d'olio. Quindi qui o nella sezione della community lasciatevi la domanda. Non vi vergognate se avete domande sull'olio, sui colori, sui pennelli, imprimitura, solventi, diluenti, pigmenti, gessi, fotografie, tutto quanto. E naturalmente risponderò ad alcune delle domande che ho lasciate in sospeso. Utilizzando appunto il video che uscirà. Quindi vi chiedo scusa per questo video molto veloce e forse accattivante, però vorrei convolgere tutti quanti dal più esperto a chi ha preso per la prima volta il pennello tra le mani. Grazie se hai visto questo video, aspetto un tuo commento qui sotto, lascia un mi piace, condividi il video per far arrivare questo video ad altre persone che magari potrebbero avere domande sulla pittura d'olio e ti chiedo di iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che so già che fanno di costruire. Grazie se hai visto questo video, arrivederci!